Per le persone a cui viene diagnosticata la celiachia, una dieta priva di glutine è la prima e più importante terapia, ma a volte anche pazienti che seguono un regime alimentare rigoroso possono manifestare disturbi gastrointestinali riconducibili alla sindrome dell'intestino irritabile, quali dolore e gonfiore addominale, difficoltà digestive, irregolarità dell'alvo. E' altresì noto, dimostrato ormai da numerosi studi scientifici, che la disbiosi, quindi un alterato equilibrio del microbiota, che è l'insieme di batteri, virus e miceti che colonizzano il nostro intestino, possa essere correlata ai sintomi dell'intestino irritabile, anche in pazienti con celiachia in remissione grazie alla dieta, i quali ai controlli periodici negli anni mostrano comunque una mucosa intestinale alterata. Ecco perché ripristinare un microbiota sano è importante anche nei pazienti celiaci e uno studio clinico randomizzato in doppio cieco, condotto su un campione di oltre 100 pazienti celiaci, ha dimostrato che un probiotico multiceppo, composto da 3 bifidobatterie e da 2 lattobacilli, assunto per 6 settimane, è stato in grado di ridurre significativamente i sintomi da sindrome dell'intestino irritabile e al contempo far aumentare le colonie di lattobacilli e bifidobatteri, migliorando quindi non solo la sintomatologia ma l'eubiosi intestinale. La correlazione tra la sindrome dell'intestino irritabile e la celiachia è una correlazione che possiamo identificare tanto per quello che riguarda la sintomatologia perché c'è una sovrapposizione di sintomi tra le due condizioni, al punto che ci sono molti pazienti celiaci che ricevono la diagnosi con molto ritardo, anche 5, 6, 7 anni di ritardo, perché la loro sintomatologia viene interpretata erroneamente come attribuibile ad una sindrome dell'intestino irritabile. Questo è il motivo per cui molte società scientifiche oggi consigliano, soprattutto di fronte agli adulti con sintomatologia di questo tipo, di effettuare sempre uno screening per la celiachia per evitare di sottodiagnosticare la patologia. È però vero che ci sono molti pazienti celiaci che hanno disturbi di questo genere alla diagnosi che nonostante un programma alimentare ben condotto, ben costruito, continuano a presentare sintomi fin dalle fasi iniziali dell'approccio dietoterapeutico e per questi pazienti sono state prospettate diverse ipotesi. È chiaro che la prima cosa che viene in mente è che questo paziente possa essere sintomatico perché magari sta assumendo sia pure involontariamente del glutine. Ma oggi noi siamo assolutamente certi che in una parte di questi pazienti ci siano problemi di contaminazione batterica della parte alta dell'intestino oppure coesistenza con malattie infiammatorie croniche intestinali o per esempio negli adulti di una certa età anche una celiachia refrattaria. L'ultima frontiera è rappresentata dall'alterazione della flora batterica intestinale alla quale, ben inteso, può contribuire anche la stessa dieta senza glutine perché quello che è stato verificato è che il paziente celiaco ha una flora batterica intestinale diversa rispetto a quella degli individui non affetti da celiachia e che l'introduzione di una dieta priva di glutine non ripristina la flora batterica intestinale tale e quale come era nei soggetti non affetti da celiachia. E quindi è su questo che è possibile che si debba intervenire in un futuro più o meno prossimo. Questo nuovo probiotico multiceppo è proposto per l'utilizzo nei pazienti con celiachia o eventualmente anche altre forme di sensibilità al glutine appare molto interessante perché sostanzialmente sembra essere in grado sulla base di studi scientifici di migliorare quei disturbi che noi osserviamo talvolta nel paziente celiaco che faccia comunque un trattamento dietetico con la dieta priva di glutine anche in maniera molto appropriata. Noi sappiamo che questi pazienti nonostante il trattamento dietetico ben fatto possono avere dei sintomi tipo colon irritabile e allora gli studi scientifici ci dicono che l'utilizzo di questo multiceppo è in grado di migliorare questa sintomatologia che persiste ad onta di un trattamento dietetico ben fatto. Al momento i dati scientifici esistono per la celiachia ma certamente in un prossimo futuro gli studi ci diranno se questo utilizzo può essere valido anche per tutti i soggetti che hanno forme di sensibilità al glutine diversa dalla celiachia che pure sappiamo essere molto frequenti perché vanno a interessare probabilmente più del 5 per cento della popolazione generale. Noi abbiamo voluto studiare in un gruppo di pazienti celiaci che nonostante la dieta avesse ancora disturbi gastrointestinali e quindi sintomi se l'utilizzo di una miscela di probiotici nel fatto specifico erano tre bifidi di lato bacilli fosse efficace quindi abbiamo somministrato questa miscela ai pazienti per sei settimane li abbiamo seguiti con degli score dei punteggi che tenevano praticamente conto della sintomatologia e abbiamo visto che paragonati al placebo questa miscela è stata efficace nel ridurre significativamente la sintomatologia di questi pazienti. Ci sono diversi studi che ci dicono che il paziente celiaco nonostante la dieta continua ad avere dei sintomi e cerca dei rimedi oggi il rimedio lo hanno ed è l'utilizzo di questa nuova miscela probiotica perché effettivamente al di fuori di questo studio è il primo nel suo tipo ed è l'unico ad aver dimostrato un'efficacia quindi piuttosto che scegliere a caso o magari fare riferimento a cose sentite non da esperti su internet come si va molto oggi alla ricerca c'è questo studio scientifico che dimostra l'efficacia nel ridurre la sintomatologia a caso intestinale quindi tutti quei pazienti che nonostante la dieta hanno ancora i sintomi oggi hanno una cosa in più da provare i nostri batteri hanno bisogno di alcuni cibi e questi cibi importanti per i batteri buoni perché noi l'intestino abbiamo sia quelli buoni che quelli diciamo cattivi ma se voglio nutrire batteri buoni devo dare frumento perché loro sono ghiotti di questo dei fruttani che sono degli zuccheri che stanno nel frumento e se io gli do questi zuccheri loro crescono se crescono questi buoni questi tengono a bada quelli diciamo meno buoni ed ecco che se io faccio la dieta senza glutine che devo fare se sono celiaco non ho un'altra opzione riducendo il frumento cioè eliminandolo proprio tolgo il nutrimento e bifidi e quindi questi si depauperano e questo è il motivo per cui la supplementazione col probiotico che ha i bifidi trova l'efficacia nella clinica il paziente che inizia la dieta è sicuramente un paziente che ha dei sintomi che magari gli hanno portato lo hanno portato proprio alla diagnosi quindi se io una sintomatologia posso migliorarla tanto accelerare i tempi di guarigione dei sintomi con l'utilizzo di questa miscela di probiotici in questo caso non siamo gli unici ma anche un altro studio prima di noi aveva dimostrato che i probiotici migliorano tanto i sintomi alla diagnosi quindi certo è un'ottima idea quella della possibile utilizzo appena sia la diagnosi nel frattempo che magari la dieta in tre sei mesi ripresina la normalità dell'intestino cibo è salute perché il cibo gli integratori alimentari tutto quello che introduciamo condizionano la salute delle persone se noi andiamo a vedere quali sono di questi credo siano 1200 confezioni di cui ci sono circa 250 300 probiotici diversi vediamo che la documentazione scientifica ce l'hanno 4 5 cosa vuol dire documentazione scientifica vuol dire lavori pubblicati in riviste internazionali in doppio cecco rispetto a placebo in cui si verifica che il paziente che assume il prodotto attivo ha dei benefici rispetto al paziente che assume il placebo